Sono Mauro Nigro in arte Chessidi, stasera ho il compito di inaugurare la prima serata musicale, la prima serata di eventi dell'Open Air Art, dopo le prime performance artistiche, in accordo con l'organizzazione, stasera non farò pezzi miei, ma per la prima volta in vita mia farò una serata a tributo, una serata a tributo dedicata a Bruce Springsteen. Erano anni in quanto estimatore del boss che volevo fare questa serata, ho colto l'occasione, e questa volta praticamente tutta la setlist sarà fatta di suoi pezzi. Notoriamente Springsteen è noto e famoso per i suoi concerti rock che hanno una durata sulle 5 ore, però ha anche fatto dei pregevoli episodi acustici come per esempio Nebraska, che sarà poi il cuore della setlist di stasera. In generale saranno tutta una serie di pezzi riarrangiati in chiave acustica, anche meno sentiti in questa veste, sperando di non sfigurare troppo nei confronti del grande Bruce. Grazie per la visione!